Vedo, vedo che, vedo che ognuno troverà la sua strada, parleremo senza parole, vedo che conosceremo i segni del cielo, vedo che... Non c'è, guarda che è già così. Oggi tutti possono avere il Vodafone Smart Android a 99 euro, con la prima offerta ricaricabile tutto incluso, perché l'importante sei tu. Vodafone. Vodafone.